Grazie. 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 Vengo più vicino? Sì, poi andiamo. Faccio così più alto. Così andiamo. 1, 2, prova, prova. 1, 2, prova, 1, 2, prova. 1, 2, prova, 1, 2, prova, 1, 2, prova. Cambio. Cambio. Solo una gamba. 1, 2, 3. E arrivato. Bravi. Hop, hop, hop. 3, 2, prova. 5, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13,8, 11, 12, 14, 14, . Ok? Dopodiché il corso del corso del corso del corso del corso del corso. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti